Emergenza Covid. Dopo aver visitato l'ospedale Sandonato di Arezzo e quello di Careggia a Firenze, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha effettuato un sopralluogo della nuova struttura con 40 posti letto riservati alle cure intermedie per i pazienti Covid realizzata a Bientina in provincia di Pisa. Durante questa settimana i nuovi casi positivi in Toscana sono aumentati, oscillando fra i 2100 e i 1700 al giorno. Si sta tenendo su un livello che comunque è un livello che poi impone di guardare non solo al breve periodo dove le terapie intensive ci sono e vi è la disponibilità, dove i posti letto ci sono e tutto viene gestito con molta razionalità dall'azienda, dalle tre aziende. Ai giornalisti che gli chiedevano se in Toscana la situazione delle strutture sanitarie è sotto controllo, il presidente Gianni ha così risposto. È un sistema che sta tenendo sotto controllo la situazione, io di sistema in affanno ancora sinceramente non ne parlerei. Parlo di un sistema che è gestito da grandi professionisti, da un personale motivato e che sta non solo facendo il suo dovere ma di più del suo dovere e che quindi ci consente di affrontare la situazione. In questa fase iniziale la struttura di Bientina sarà utilizzata anche per i pazienti in dimissione dall'azienda ospedaliera universitaria di Pisa. Non sono rimodulazioni di attività esistenti, sono posti nuovi che rimarranno al territorio anche nel post-covid come letti di cura intermedia che quindi avranno la finalità di decongestionare gli ospedali consentendo una dimissione più veloce e anche dare una risposta migliore al territorio per tutti quei casi che non possono stare a casa ma che non sono così acuti da andare in ospedale. Quindi un bel bacino di posti letto che ritengo sia importante. Grazie a tutti.